Buonasera, si è appena concluso il Consiglio europeo, è stata una tappa, ha segnato una tappa importante nella storia europea. Tutti e 27 Paesi hanno accettato, abbiamo accettato, di introdurre per reagire a questa crisi sanitaria, a questa emergenza sanitaria, economica e sociale, uno strumento innovativo, il Recovery Fund. Sarebbe un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i Paesi più colpiti, tra cui l'Italia ma non solo l'Italia. È importante perché è passato anche il principio che è uno strumento urgente, è uno strumento assolutamente necessario. L'Italia è in prima fila a chiederlo e devo dire la verità che la nostra iniziativa con la lettera firmata agli altri otto Paesi è stata molto importante perché uno strumento del genere era assolutamente impensabile sino adesso. È un nuovo strumento che si aggiungerà a quelli già varati, renderà la risposta europea, ci auguriamo, molto più solida, molto più coordinata, molto più efficace. Grazie.